Lo studio per ciascun artista è un luogo speciale. Qui le idee trovano forma, i pensieri crescono e fluiscono attraverso le mani. Qui gli artisti immaginano, creano, lavorano e spesso ci vivono anche. Il Maxi mi ha chiesto di andare a visitarne alcuni, per conoscere gli artisti e le loro storie. Talvolta emozionanti e struggenti, altre volte curiose ed entusiasmanti. Ne voglio raccontare anche a voi. Seguitemi! Grazie a tutti!